Cos'è vita? La vita cos'è? Innanzitutto stare bene con se stessi. Diciamo che nasco come Alessio, un maschietto, un bambino maschio. Sono Alessia Bergamo e nella mia vita ho sofferto molto perché avevo questo corpo maschile dove mi sentivo malissimo con questo corpo maschile ma io volevo essere una donna. Quindi già da bambino a scuola, da Alessio a scuola mi bullizzavano, mi prendevano in giro, mi prendevano la cartella, lo zainetto, mi svuotavano i libri sulla strada, li calpestavano, i vestiti, mi rubavano le merendine, il panino perché all'epoca diciamo il panino si portava da casa, ecco. Mi rubavano anche il panino quindi ero un ragazzo buono ma buono perché? Perché non mi sentivo, un po' fesso io direi anche, perché non mi sentivo bene in quel corpo da maschietto mentre tutti i miei amici andavano dietro alle bambine insomma giocavano a calcio io invece andavo dietro alle bambine per giocare, giocavo con le bambole con loro quindi il calcio non esisteva per me, facevo più giochi da femminuccia. nasco in Sicilia, un paesino in provincia di Enna, Val Guarnera, un paesino molto piccolo nell'entroterra della Sicilia, mentalità molto chiusa. Quindi quando dissi ai miei genitori mamma e papà voglio diventare donna, voglio diventare femmina, i miei genitori mi buttarono fuori casa. però prima l'input l'hanno avuto dalle maestre dell'asilo perché lo sai, nelle scuole all'asilo si fa la riunione con i genitori. Quindi queste maestre dissero ai miei genitori in una riunione vostro figlio è un bambino molto delicato, un carattere molto dolce, un ragazzo molto sensibile. I miei, giustamente, essendo molto cattolici, o forse magari secondo me non volevano accettare, o forse avevano capito, questo non gliel'ho mai chiesto, pensavano che era un dono del Signore e quindi secondo loro io dovevo diventare prete. Quindi io dopo la scuola, sempre obbligata dei miei genitori perché potevo avere 12, 11, 12 anni, i miei genitori mi facevano fare il chirichetto a scuola, in chiesa, servivo la messa. Quindi una cosa che io sinceramente non sentivo mia, ecco, però lo facevo perché non avevo amici, subito dopo la scuola io mi chiudevo a casa perché mi prendevano in giro, non frequentavo alt'amicizia. Quindi il mio unico svago era questa chiesa dove servivo la messa. Solo che poi crescendo, quando si incomincia ad arrivare alla pubertà, giustamente incominci già a guardare i primi film porno, i primi giornaletti, insomma, ti incomincia a toccare a una certa età la pubertà. Però io giustamente, quanto mi toccavo, guardavo i film, io guardavo gli uomini. Già da bambino non guardavo la donna, non guardavo l'apparato genitale femminile, ma guardavo l'uomo. E io volevo essere al posto della donna. Quindi già da bambino c'era questa piccola diversità, solo che io mi vergognavo da morire. Quindi non ne parlavo a nessuno, a quei tempi là, a scuola, se avessi detto una cosa del genere, ma per il paese sarei stato lo zimbello del paese. Quindi mi nascondevo, non potevo neanche esternare la mia sessualità. Non ero per niente femminato perché mi nascondevo. Ma comunque già gli atteggiamenti c'erano, si vedevano. E anche se io non li dimostravo, mi prendevano comunque in giro. Quindi gli amichetti vedono un ragazzino debole e ti prendono di mira. Da bambino, sai, alle scuole elementari, dieci anni, mi piaceva giocare con le femminucce, giocavo con le loro bambole. I soldatini non li guardavo neanche. Non giocavo a calcio come tutti gli altri. Allora io andavo a scuola a piedi perché all'epoca si andava a scuola a piedi. Già i bambini, sia quelli della mia classe che anche di altre classi, ormai sapevano che ero lo zimbello della scuola, mi prendevano lo zaino, mi aprivano lo zaino, mi buttavano i libri per terra. Io li dovevo raccogliere, man mano che li raccoglievo, davano le pedate a me, ai libri, per farli andare più lontano, io a rincorrerli. Insomma, non è stata così semplice la mia vita. Poi arrivavo a scuola, fino a quanto c'erano i maestri, i professori, fino a quanto ero in classe con il maestro e il professore, andava tutto bene. Ma per me la ricreazione era un inferno. Quella a mezz'oretta, mi sembra che durava mezz'oretta la ricreazione, non ricordo, era un inferno perché io non avevo più la protezione dei maestri, dei professori, ma dovevo stare fuori nel cortile a giocare con gli altri bambini che non avevo amici perché mi chiudevo in me stesso perché io già vedevo che c'era qualcosa di diverso in me. Quindi non frequentavo altri bambini, perché mi sentivo male in quel corpo lì perché mi prendevano in giro e quindi tutta la ricreazione, atti di bullismo, sputi, femminuccia. Io a volte passavo anche tutta la ricreazione chiusa in bagno per non vedere gli amici e per non essere presa di mira. Stiamo parlando di 11-12 anni, quell'età lì che è molto importante per i ragazzini ancora non è che hai un carattere formato. quindi pensi di essere sbagliato, addirittura anche io pensavo che c'era qualcosa di me di sbagliato. Io tante volte avevo anche pensato di farla finita, di buttarmi sotto un treno, buttarmi da qualche palazzo, perché a quell'età lì non è che capisci bene cosa stai facendo. ti vedi preso di mira dai bambini, sempre casa, lavoro, 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 casa, e mi ero messa in testa anche io che non ero normale. Quando si comincia ad arrivare 14-15 anni, già io sentivo questa voglia di essere più femmina, più donna. La sentivo fortemente, io volevo diventare donna a tutti gli effetti. Quindi lo dissi ai miei genitori, mamma e papà, a 14 anni o 15, voglio diventare donna. Apriti cielo, la mamma piangere. Papà, un figlio così, io non lo voglio, sei la vergogna del paese, perché il mio paesino è un paesino piccolino di 7000 abitanti. Mi dicevano tutti ti prenderanno in giro, ci hai rovinato la vita, sei da curare, perché secondo loro io avevo una malattia perché loro molto cattolici pensavano che io con la chiesa, con i preti, lì a servire la mestra mentre facevo il crichetto, secondo loro mi portavano la retta via. Ma loro invece non sanno che il primo sesso che io ho fatto, l'ho fatto proprio in sacrestia. Quindi loro non sanno che lì c'è la bocca del leone pronta ad approfittarsi di questi ragazzi timidi, effemminati. a quell'età non ho provato neanche a dirglielo perché giustamente con i miei non parlavo io dei miei segreti, di quello che sentivo dentro perché a quell'età è difficile parlare con i genitori, soprattutto se sono a senso onico. Quindi mi buttarono fuori casa a 17 anni. Io ho preso quei quattro stracci che avevo, 1000 euro, poco più, un gruzzoletto che c'avevo e me ne andai a casa di amici a Bergamo che ho conosciuto, questo gruppo di amici che mi dicevano sempre vieni qua da noi, vieni qua da noi che ti aiutiamo, ti troviamo un posto, non puoi stare lì in Sicilia, altrimenti davvero la facevo finita io lì. Quindi diciamo che è stata anche un po' la mia salvezza che mi hanno buttata fuori casa perché lì in paese non avrei avuto la forza e il coraggio di cambiare e fare la transizione. Però c'è da dire una cosa, la mamma l'indomani quando mi buttarono fuori casa a gridare con tutti i vestiti per terra a lanciarli, la mamma mi piangeva l'indomani al telefono, sì perché il cuore di mamma aveva paura, aveva paura che magari finivo in mezzo alla strada, avrei fatto cose sbagliate, cose vietate, insomma il cuore di mamma. Io gli ho detto mamma stai tranquilla gli ho detto non sono in mezzo a una strada vado al nord Italia vado a Bergamo a casa di amici però sappi che io continuo con il mio percorso ritornerò quando sarò tutta cambiata totalmente. Quindi passarono gli anni per me è stato molto difficile arrivare al nord era bellissimo perché al nord incominciai a travestirmi perché giustamente ho fatto il mio passaggio da ragazzo effeminato a travestito ecco non è che ero così bella e femminile come adesso non avevo i soldi per poter fare tutta la chirurgia per migliorarmi quindi mi travestivo però io mi sentivo bene con il mio gruppo di amici a casa di questi amici che erano tutti bene o male chi gay chi bisex chi voleva diventare anche donna chi trans insomma eravamo un bel gruppo si andava in giro vestiti da donna anche io quindi io mi sentivo bellissima soprattutto perché avevo anche un gruppo di amici un gruppo di amici a cui potevo raccontare potevo esternare quello che avevo dentro e che non mi criticavano e non mi prendevano in giro perché anche loro hanno passato quello che ho passato io da bambino quindi io stavo benissimo una bella città però poi giustamente incominciò i problemi perché non trovavo lavoro perché mandavo tanti curriculum tramite internet ovviamente vedevano il nome maschile l'età molto giovane e sembrava che mi dicevano che mi prendevano subito vieni che facciamo il colloquio non ci sono problemi ti prendiamo sei giovane quando arrivavo lì giustamente che vedevano che ero molto più effemminato perché giustamente al nord io ho incominciato a esternare la mia vera sessualità si vedeva comunque anche se toglievo lo smalto dalle unghie anche se mettevo vestiti maschili avevo i capelli lunghi però si vedeva che ero effemminato quindi nei colloqui anche i lavori più umili anche lavapiatti ai ristoranti o fare le pulizie nelle ditte dicevano di no inventavano la qualsiasi scusa per non prendermi addirittura un ristorante come lavapiatti mi disse no ma noi cerchiamo gente del nord perché è più predisposta a lavorare io non ci ho visto più gli ho detto guarda è inutile che mi dici queste stronzate dimmi che non mi prendi perché sono effemminato che magari pensi chissà che cosa faccio nel tuo locale ma di almeno la verità non prendere in giro le persone così quindi mi veniva molto difficile trovare un lavoro quindi cosa dovevo fare perché io dovevo pagare l'affitto lì a casa degli amici non è che mi mantenevano erano tutti ragazzi giovani come me quindi incominciai a sfruttare la mia passione per lo spettacolo incominciai a fare la drag queen Alessia Bergamo prima di diventare Alessia Bergamo era una drag queen un ragazzo effemminato ancora non avevo chirurgia non avevo le tette mi travestivo con parocconi enormi trucco da drag queen vestiti scintillanti e facevo i miei spettacoli nei ristoranti nei bar per l'aperitivo fino a che trovai poi una persona che mi disse ma tu sei sprecata tu come drag queen perché sei molto femminile perché avevo la fortuna già da ragazzino che ero molto femminile con questa vocina molto dolce perché la vocina non si può cambiare purtroppo puoi cambiare tutto con la chirurgia ma non la voce quindi i movimenti la femminilità la vedeva ha detto tu sei sprecata come drag queen ti devi fare un paio di tette e io ti porto a lavorare nel mio locale che avevo un nightclub questo signore che gli chiedevano sempre i transessuali perché ai tempi d'oggi le trans sono molto richieste magari non lo dicono chi a chi piace la trans non lo dice che gli piace la trans però nei locali sono molto richieste per fare i spogliarelli ma soprattutto per fare i privè i classici privè da nightclub quindi questo tizio mi disse fatti un bel paio di tette usa la chirurgia che io ti prendo da lavorare io gli ho detto e magari ci vogliono i soldi purtroppo quindi trovai tramite lui un lavoro in fabbrica tramite un suo amico di giorno lavoravo in fabbrica un cotonificio in Val Seriana e la sera facevo ancora la drag queen quindi avevo doppio guadagno giustamente non sperperavo i soldi perché il mio sogno era avere le tette perché fino a quando non hai le tette sei un travestito sei un maschio le tette invece è un sinonimo di femminilità da quella sensazione di donna dopo un po' di tempo riusci a mettere da parte i soldi ma non non mi passavo nessun sfizio non uscivo al massimo uscivo solo per fare un giretto ma non andavo in discoteca per non consumare i soldi fino a che sono arrivata alla somma di 5.000 euro perché ci vogliono 5.000 euro per fare questo bel davanzale e la prima cosa che ho fatto il seno in andai da un chirurgo io mi ricordo benissimo quando entrai in sala operatoria io ero con il sorriso no a Modena a Modena lo feci io feci tutto a Modena perché è una cosa importante la chirurgia noi noi trans ci confrontiamo dei bagni delle discoteche insomma ci confrontiamo ci mettiamo le tette di fuori guarda che belle ci confrontiamo quindi ho visto i lavori più belli che li faceva questo dottore qua questa clinica privata a Modena andai da lui e lui mi disse sei la prima che entra nella sala operatoria con il sorriso allegra perché tutte le altre sono preoccupate hanno paura tu invece ridi sei allegra io gli risposi semplicemente così ma io rido perché so che sto realizzando il mio sogno che sto facendo il primo passo per essere una donna quindi da lì quando feci le tette che facevo ancora un doppio lavoro che lavoravo nelle fabbriche e nei locali come i drag queen avevo un doppio guadagno quindi investi tutti i soldi sul mio fisico perché non ci volevano solo le tette ma anche i peli la barba e tutto perché non è che vanno via così si deve fare laser definitivo quindi con il tempo mi migliorai fino a che mi prese questo signore che aveva detto che mi proponeva lavoro nel suo locale mi disse devi fare un mezzo spogliarello nel mio locale come fai un po' così da drag queen però anziché cantare ti spogli per me era un po' una cosa nuova però la mia voglia di esibizionismo c'era la mia voglia di farmi desiderare dagli uomini come donna c'era quindi incominciai a prendere dei pezzettini di spogliarello su youtube da altre ragazze e incominciai a crearmi il mio spogliarello il mio show il primo show che fece è stato un successo che non me l'aspettavo tutti che applaudivano tutti che mi chiedevano di dove sei andiamo a fare il privé perché nei nightclub si fa il privé di dieci minuti non si fa sesso classico privé di spogliarello privato e c'era la fila per me quindi ho detto caspita quindi finalmente sto raggiungendo il mio sogno di poter continuare a fare chirurgia ancora per il viso perché ancora il naso non era perfetto sai le labbra insomma il viso era ancora spigoloso il fisico quindi man mano che lavoravo nei locali mi feci i soldi e diventai sempre più bella e così nacque il personaggio di Alessia Bergamo adesso chi è Alessia Bergamo nella vita di oggi Alessia Bergamo come primo lavoro sono una spogliarellista una sexy star l'unica spogliarellista transessuale che si spoglia nei night club nei club privé nelle discoteche perché sono tutte donne o nelle fiere erotiche come il Bergamo Sex quindi per me è stata una bella rivincita ecco diventare Alessia Bergamo mi si sono aperte tante porte di tanti locali fino a che vinsi anche il concorso di Miss Trans Italia perché magari voi non sapete ma c'è anche il concorso di Miss Trans Italia per noi transessuali come quello delle donne come Miss Italia solo che il nostro non lo fanno in televisione perché c'è il Vaticano un po' la burocrazia i limiti quindi vinsi il primo posto come la più bella trans del 2013 sono passati tanti anni ma nella vita si vince una volta sola questo concorso e io lo vinsi nel 2013 mi diede molta più notorietà quanti anni avevi quando hai vinto? allora vico oddio sono passati tanti anni non mi ricordo neanche guarda ne sono passati così tanti però cosa potevo avere 25 26 anni ero fresca bella giovane ecco anche se adesso ho qualche annetto in più però l'età aumenta per tutti quindi mi diede un bel trampolino di lancio Miss Trans Italia perché mi chiamavano nei locali per fare scena non più per fare lo spettacolo ma come Miss Trans Italia per fare scena ancora adesso a distanza di anni anche se ogni anno di Miss Trans ce n'è stata una nuova ogni anno nei locali chiamano ancora me come Miss Trans e tutte le altre giustamente che sono venute dopo di me come Miss Trans mi dicono ma Alessia ma come hai fatto tu perché chiamano te a me mi è durato massimo un anno il successo poi sono andata nel dimenticatoio io gli ho detto allora diciamo che io già avevo un piccolo personaggio prima di vincere il concorso di Miss Trans Italia facevo gli spogliarelli lavoravo nelle fiere lavoravo in televisione con Sexy Bar con Corrado Fumagalli facevo gli spogliarelli in televisione quindi già avevo un piccolo personaggio che ho coltivato con gli anni non è che è arrivato così Alessia Bergamo così nel nulla anni e anni di gavetta e adesso mi godo il mio successo con modestia non me la tiro per niente sono una persona tranquilla e adesso non mi manca non mi manca niente una bella rivincita è che adesso quando torno al mio paese giù in Sicilia dove prima tutti i miei amici mi sfottevano mi prendevano in giro quando vado giù in Sicilia è come se arriva la madonna tutti che mi fermano per le strade tutti che si vogliono fare i selfie tutti perché tutti sanno chi sono perché nei miei social basta scrivere a proposito Alessia Bergamo ovunque mi trovate YouTube Facebook quindi mi vedono sapevano tutto di me quindi quando vado giù in paese tutti che vogliono parlare con me tutti che mi vogliono conoscere e gli stessi che mi prendevano in giro mi scrivono su Facebook in privato e ti voglio conoscere sei bellissima andiamo a prenderci un caffè la scuda del caffè immagini cosa vogliono fare quindi adesso sono io che li rifiuto sono io che dico di no che li ignoro e questa è la mia la mia rivincita perché ultimamente da tanti anni ho fatto molte trasmissioni televisive Rai 2 con Magallia i fatti vostri ho raccontato tutta la mia storia tutta la mia vita a mezzogiorno quindi un programma dove le persone dove ci sta un pubblico famiglia ecco poi ho fatto Ciao Darwin forum anche su Rete 4 che recitavo una storia perché lo sappiamo tutti che forum chiamano gli attori litigavo come una pazza anche su Cielo mi hanno fatto una bella intervista sulla mia vita al programma The Body of Sex dove ho raccontato la mia vita mi hanno seguito per un giorno nella mia vita di tutti i giorni al supermercato nei locali dove lavoro insomma la mia vita è molto particolare quindi attira molto le televisioni ultimamente di recente due tre settimane fa si accendevate si accendevi Rete 4 mi vedevi fuori dal coro con Giordano ecco ed è stato un bel trampolino anche lì perché le persone mi dicono eh ma tu quando vado per strada adesso ti ho visto Rete 4 ma sei tu quindi oramai le persone non mi vedono più come lo zimbello del paese come quando ero bambino adesso mi vedono come una persona da conoscere come come se passa la madonna che tutti vogliono parlarmi ma io con molta tranquillità non sono una che se la tira per carità sono una molto umile quindi l'importante è quello per avere successo bisogna essere persone umili bisogna usare la testa che è importante altrimenti il successo ti passa via dopo un anno adesso una cosa che a me piace tantissimo è che sono fiera di fare perché oramai Alessia Bergamo è conosciuta nel mondo della notte come spogliarellista però ultimamente da qualche anno a questa parte lavoro anche nelle fiere del fumetto cosa sono le fiere del fumetto i comics cosa sono magari le persone non lo sanno spieghiamo fiere del fumetto le fanno tante qui a Milano le fanno tantissime il Cartomics che è grandissimo al centro centro fieristico tutti vestiti in cosplay vestiti da personaggi dei cartoni animati dei manga della televisione dei film dei fumetti dei videogiochi e ci sono bancarelle che è una fiera a tutti gli effetti e nelle bancarelle vendono i fumetti tutte cose inerenti al mondo dei cartoni animati quindi mi chiamano in queste fiere per animare lo stand l'abito che metto quasi sempre perché mi dicono che sono perfetta è la Jessica Rabbit perché è prosperosa sexy metto una parrucca rossa giustamente perché ho i capelli neri e la Jessica Rabbit deve avere vestitino rosso e capelli rossi e quindi è una bellissima cosa perché mi chiamano anche come madrina in alcune fiere del fumetto perché vedono che dicono che ci so fare con la gente anche con i bambini perché nella fiera del fumetto ci sono le famiglie foto su foto maggiormente oddio diciamo la verità un po' sono i papà diciamo che si fanno le foto con me ecco dicono finalmente finalmente una foto anche per noi papà dicono però io giustamente massima serietà anche se sanno tutti chi sono perché non è che mi nascondo sono un personaggio pubblico quindi sui miei social c'è tutto quindi tutto quello che sto dicendo è tutto documentato sui miei social non c'è niente di inventato con video e foto e tutto quindi per me è una bella rivincita entrare in una fiera del fumetto come per lavorare dove ci stanno i bambini le famiglie così le persone non mi vedono solo come una spogliarellista o come una che lavora solo la notte e quindi per me è una bella rivincita anche questo poi diciamo la verità io ero anche appassionata di cosplay ecco quindi sono una mezza nerd ecco che gioco tanto ai videogiochi e quindi il mio sogno era immedesimare questi personaggi e ci sono riuscita così con le fiere del fumetto mi metto il mio costumino il mio cosplay e vado a fare foto con le persone ad animare lo stand che mi chiama poi si va sul palco maggiormente racconto che cosa vuol dire la parola cosplay come nasce perché ancora tanti non lo sanno insomma faccio anche lì il mio show ma non mi spoglio ma come hai fatto a iniziare a lavorare anche nelle fiere nel senso come mai gli organizzatori chiamano una donna transessuale anziché una donna biologica allora perché sono 80 quindi nelle fiere loro cercano personaggi appariscenti persone che sanno stare in mezzo alla folla maggiormente i manga e i personaggi dei cartoni hanno tutte le tette belle grandi formose i manga soprattutto quindi dicono che io sono perfetta quel pizzico di trasgressione ci sta a pennello perché di solito le ragazzine sai sono tutte ragazzine giovani senza seno piccoline bassine che gli metti un costume da Jessica Rabbit si fa la sua bella figura però una prosperosa così un metro e ottantadue è un'altra cosa quindi anche lì siccome io mettevo già ero appassionata di cosplay quindi i miei spettacoli io li facevo già con i costumi da cosplay mettevo il costumino da Jessica Rabbit e iniziavo il mio spogliarello nei locali quindi pubblicavo le foto ovunque nei miei social fino a che Amy vide una persona molto conosciuta nel mondo dei comics e mi disse Alessia tu sei perfetta io ti conosco perché siamo anche amici siamo diventati con il tempo perché il suo punto era portarmi alle fiere perché ha detto sei una persona squisita sei gentile con tutti sempre con il sorriso sulle labbra non te la tiri quindi sei perfetta io ho detto certo accetto subito gli ho detto perché mi piace cimentarmi in cose nuove diverse dal mio lavoro io ormai sono conosciuta anche nel mondo del cosplay basta andare sul mio profilo ci sono decine e decine di di cosplay di foto professionali che poi nelle fiere mi chiamano anche i fotografi perché le fiere del fumetto attira tanti fotografi che gli piace fotografare i personaggi dei cartoni animati giustamente lì in fiare è tutto gratuito mi dice di farmi una foto io mi metto in posa e mi fa la foto ed è tutto gratuito solo che dopo voglio nel numero di telefono e mi dicono Alessia mi piace questo costume io ti vorrei a tale posto a tale orario a tale giorno ti pago la benzina ti pago il disturbo e ti voglio fare due ore di foto e quindi un lavoro chiama un altro ecco quindi oltre come cosplayer poso anche come fotomodella sia in cosplay ma anche come nudo artistico o nudo artistico attenzione non è porno attenzione nudo artistico vuol dire parti intime coperte al massimo un po' di seno scoperto una cosa molto delicata ecco con classe non gambe aperte o con altri uomini a fare foto ecco nudo artistico vuol dire questo e quindi non si finisce mai di imparare nuove cose e cimentarsi su nuovi lavori ok possiamo fare per favore un riassunto di tutti i tuoi lavori attuali allora adesso sono tanti eh il primo assoluto è spogliarellista sexy star quello è il mio principale poi mi chiamano tanto nelle televisioni perché ho fatto tantissimi programmi sia nazionali ma tanti tanti di reti locali tanti tanti mi sono anche spogliata in televisione la sera a mezzanotte in queste reti locali trasmissioni inerenti a spogliarellista poi faccio la la cosplayer nelle fiere la fotomodella quindi maggiormente questi sono i lavori che faccio attualmente ultimamente mi hanno anche chiamata per fare un cortometraggio che a breve uscirà e pubblicherò tutto sui miei social quindi seguitemi i social che vedrete un cortometraggio dove sarò una una spietata killer perché è un action movie poliziesco vi dico solo che io muoio alla fine che mi sparano che sono una mafiosa mi sparano e muoio in una maniera molto glamour insomma non sveglio niente perché uscirà tutto a breve quindi mi mancava solo recitare ecco in un cortometraggio e ho fatto anche quello hai mai offerto invece anche il sesso per il pagamento? allora ovunque soprattutto nei locali tanti mi chiedono dammi il numero di telefono ti vengo a trovare a casa sei bella ti faccio un regalino diciamo che adesso non ne ho bisogno quindi ho il mio lavoro per carità non guadagno i miliardi per carità ma mi basta questo lavoro per vivere per mantenermi quindi le mie avventure diciamo me le faccio come tutti se la persona mi piace se mi attira mi faccio un'avventura anche io quindi cerco di stare fuori dal sesso appagamento perché non ne ho bisogno diciamo che non non è necessario ma in passato hai mai accettato allora ti dirò per carità quando soprattutto mi servivano soldi per fare gli spettacoli per fare gli interventi lo ammetto non è che per carità era proprio un servizio escort però alcuni mi davano dei regali in cambio che me li volevano fare loro io li accettavo giustamente mica glielo lasciavo lì e quindi mi compravano le scarpe le bolle le borsette i jeans i bracciali i collane io accettavo giustamente quindi non è prostituzione però un regalo che aiuta e l'ho preso non mi vergogno a dirlo a me ci hai avuto invece proposte di pornografia allora sì tantissimo da Rocco Siffredi soprattutto quando vinsi il concorso di Miss Trans Italia Rocco Siffredi ma anche il Nobili che il Nobili tratta molti film porno di trans mi dissero sei bella sei italiana sei giunonica sei bella io ti farò fare un bel film e ti farò avere successo nel mondo del porno ti darò l'attore che scegli tu mi ha detto te lo scegli tu quello che vuoi quello che ti piace ma devi girare un film con me nella mia casa di produzione io siccome li conosco sia Rocco Siffredi che il Nobili che ci vediamo sempre nelle fiere erotiche come il Bergamo Sex e tante altre in Italia gli ho detto guarda per me il sesso è una cosa molto intima quindi preferisco più farlo nell'intimità senza telecamere non sono fatta per fare sesso così andare a finire tutto in internet che mi vedono tutti i nipoti i fratelli quelli del mio paese scandalo poi quindi ho sempre rifiutato perché diciamo la verità ai tempi d'oggi oramai non si guadagna più neanche tanto con i porno non è come all'epoca che c'era Cicciolina Moana Pozzi che non c'era internet quindi chi voleva il film porno lo comprava la cassettina comprava la vecchia cassetta non c'erano tutti questi pirati che sdoppiano i film e li mettono in internet quindi per avere un film porno lo dovevi comprare quindi a quei tempi pagavano veramente bene adesso invece ti danno una miseria quindi non conviene se devo buttare via la dignità ma la butto via per tanti soldi non per una miseria quindi ho sempre detto di no e dirò sempre di no quindi non mi troverete in nessun film porno per mia scelta però Rocco ti ha promesso il successo quindi potenzialmente te lo farei allora sì sinceramente non lo voglio il successo nel mondo del porno non lo voglio perché tante televisioni soprattutto Rai 1 quando andai da Magalli ai fatti vostri la trasmissione su Rai 2 loro mi dissero ti abbiamo trovato su internet vediamo che lavori nel mondo della notte ma sei anche una porno star io gli ho detto no io sono una sexy star faccio spogliarelli che è una cosa diversa mi spoglio solo nei locali ma non ho mai fatto un porno loro mi hanno detto per il momento ti lasciamo appesa così facciamo un controllo su internet se troviamo dei film porno mi dispiace ma non puoi venire nella nostra trasmissione perché non vogliamo associare la pornografia alla nostra trasmissione in televisione purtroppo funziona così devi essere Rocco Siffredi Malena oppure personaggi importantissimi per andare a parlare in televisione e dire che sei una porno star se non hai un personaggio così conosciuto la televisione ti evita quindi io preferisco più andare in televisione in una trasmissione farmi conoscere per la mia storia per quello che dico non per mettermi a gambe aperte uno che mi sbatte in tutte le posizioni quindi preferisco più declinare sempre le proposte del porno ok mi hai detto che comunque guadagni abbastanza con i tuoi lavori attuali allora abbastanza per vivere non è che vivo in mezzo all'oro per carità mi faccio un mazzo così comunque faccio anche io perché per mantenere questo fisico ci vuole extension unghie massaggi pelle bellissima crema e cremina ci vuole tanto maschere per i capelli insomma crema viso i piccoli ritocchini dai diciamolo le punturine mantenermi così costa tanto però riesco non vivo nell'oro non mi manca niente quindi riesco a vivere normale quanto costa mediamente a spanne tutto questo il trucco tutto il tuo tu fai conto che l'extension io qui ho le ciocche di extension che sono quelle con la cheratina che durano un anno sono estensioni che si aggiungono ai tuoi capelli per fare più volume e durano un anno costano 800 euro quindi già 800 euro vanno solo qua di extension per fare tutti i miei spettacoli sbattere i capelli poi le unche ogni ogni 15 giorni il gel costa comunque i ritocchini con il filler le punturine le rughette che incominciano ad uscire sistemiamo gli abiti perché giustamente io devo comprare abiti per tutti i giorni che vabbè quelli ce li ho abiti per gli spogliarelli abiti per le fiere del fumetto e abiti per quando mi chiamano come fotomodella perché giustamente non puoi sempre andare con lo stesso costume non ti chiamerebbe più nessuno devi sempre cambiare quindi tutto questo costa più specificamente quanto guadagni e quanto spendi in un mese? allora quanto guadagno non c'è non posso fare un calcolo perché io maggiormente lavoro nei weekend ad esempio gli spettacoli sono solo a volte sabato e domenica quindi gli spogliarelli non ce n'è sabato e domenica ogni tanto succede nel mezzo della settimana ma raramente per arrotondare nel mezzo della settimana mi capita qualche servizio fotografico che comunque non è che prendo miliardi per un set fotografico sono 100 euro dipende se è lontano 150 200 non è che ci sono prezzi chissà che cosa prezzi molto modesti che mi servono per vivere anche perché mi piace posare avere delle foto belle nuove professionali sul mio profilo e guadagnarci una media di quanto guadagno e quanto spendo difficile farla perché ogni mese cambia non è che mi occupo tutti i giorni a lavorare ad esempio adesso io vado a Venezia mi hanno chiamata per una settimana a Venezia perché ho tantissimi abiti 700 quelli dell'epoca con il panettone in testa quei capelli tutti così mi hanno chiamato per una settimana perché ho dei bellissimi abiti per fare set fotografici ma soprattutto poi la sera agli eventi più in di Venezia dove le persone per entrare pagano 1000 2000 e io sono lì per esempio tu mi dici cosa fai tu lì te lo spiego subito innanzitutto ci mettiamo tutte le dame perché noi saremmo vestite da abito 700 le location sono bellissime in stile 700 tutta Venezia ci mettiamo all'entrata e accogliamo le persone buongiorno benvenuti li accogliamo dopo si fanno si socializza per tutta la serata con le persone si gioca che ci stanno giochi adatti di quei tempi giochi del 700 insomma si interagisce con le persone niente di sessuale una festa dove si mangia ci sono spettacoli tutto in stile 700 obbligo anche le persone che vengono a mettersi il loro abito 700 Veneziano quindi lì i guadagni sono tanti guadagni abbastanza perché giustamente una persona paga 1500 2000 euro per entrare quindi lì guadagno tanto giustamente non dico il prezzo perché non mi sembra il caso però il carnevale una volta l'anno c'è capisci quindi questi guadagni extra sono una volta l'anno non sempre no ma perché tante soprattutto le influencer o anche quelle che usano OnlyFans dicono io lavoro miliardi guadagno 20.000 euro al mese non ci credete non ci credete ci sono passate anche io su OnlyFans lo chiuso immediatamente perché si guadagni qualcosina ma non tutte queste cifre che dicono loro quindi non credete alle cifre che vi dicono le influencer perché non riesci a vivere solo di influencer o sei chiaro Ferragni lei si che riesce a vivere ma noi piccoli normali facciamo del nostro meglio che aiuta comunque a a vivere ecco passarsi qualche sfizio quello è poco ma sicuro io addirittura l'ho anche chiuso il mio OnlyFans perché innanzitutto non ho la pazienza di stare dietro perché chiedono sempre di più metti una foto sexy non gli basta vogliono la foto con le tette di fuori metti le tette di fuori no non gli basta vogliono vedere le parti intime le parti intime metti le parti intime di fuori fai il video no non gli basta vogliono che fai sesso in camera e gli mandi il video no non faccio film porno e mi metto a fare i video su OnlyFans che se ne frega l'ho chiuso quindi non sono su OnlyFans non me lo chiedete neanche forse è sottointeso ma alla fine a cosa è dovuto tutto il tuo successo? allora ma perché sono una persona semplice io non mi sono montata la testa anche se anni e anni che lavoro nei locali ma veramente tanti anni non mi sono montata la testa sono Alessia Bergamo ok va bene ho un piccolo personaggio che nel mondo della notte mi conoscono nel mondo LGBT mi conoscono tutti però al di fuori del mio lavoro io sono Alessia appunto e basta una persona normalissima che tolgo via tutti questi lustrini metto un trucco normale vado a fare shopping come tutta vado a cena con gli amici vado ai concerti vivo una vita normalissima quindi il successo è proprio questo innanzitutto essere umile non montarsi la testa essere sempre disponibile gentile e carina educata con tutti perché nei locali a volte soprattutto quando sono l'ospite della serata che mi chiamano come ospite per fare lo spogliarello hai tutti addosso nei locali tutti gli uomini addosso che magari bevono un po' ti abbracciano ti prendono tipo con la forza e tu devi essere carino e gentile non è facile perché giustamente lui è venuto per te in questo caso per me al locale quindi non puoi trattarlo male quindi è difficile però sangue e freddo calma soprattutto e non alterarsi l'unica cosa che mi altera è il telefono su quello non ci posso fare niente infatti non lo do a nessuno il numero di telefono perché mi conosco il telefono mi altera non riesco non ho la pazienza di stare al telefono preferisco più scrivere nei social che stare al telefono e quindi quando mi chiedono il numero quindi non chiedetemi il numero non lo do quasi mai perché poi si attaccano con messaggi figurati che Whatsapp non ce l'ho neanche l'ho cancellato è perché il telefonino mi agita un po' preferisco stare più con le mie con le mie passioni ecco che stare sempre con il telefonino così a proposito di uomini che mi hai detto prima che fanno la fila per te ma come mai così tanti uomini desiderano le transessuali allora te lo spiego subito perché un uomo va a trans bella domanda questa perché gli piace vedere la figura femminile perché intubbiamente vedono il seno è importante una figura femminile ma con quel qualcosa in più che per loro è una trasgressione molti pensano va bene ma con voi trans vanno i gay no 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 io specifico sempre in tutte le interviste che con le trans non ci vanno i gay io ho tanti amici gay tantissimi ma ci vado fuori a cena andiamo a fare shopping come amici quelli che vengono a letto con me come semplici avventure perché mi faccio le avventure anche io sono tutti sposati li vedo con la fede al dito stanchi della solita routine a casa con la moglie o con la fidanzata e fare la solita ciulatina veloce le solite posizioni poi si sa che una trans era un uomo quindi l'uomo di indole è più focoso io giustamente so quali sono i punti deboli di un uomo so come farlo divertire so dove passare la linguetta più volentieri so come citarlo quindi noi abbiamo una marcia in più perché siamo più bravi ovviamente però stiamo parlando di veri trans attenzione e non quei travestiti lì con parrucca senza seno con i peli vestiti da donna quella è una cosa diversa l'uomo vuole vedere una donna una donna con il cazzo e proprio quello lo cercano e come se lo cercano anche se sono etero loro si definiscono etero però qui ci sarebbe da aprire un discorso che non si finisce più io li chiamerei più trisex un terzo sesso perché quelli che vanno a trans non sono gay perché non gli piacciono gli uomini con gli uomini non ci andrebbero mai con un uomo normale perché gli fa schifo quindi bisex non li chiamerei neanche perché il bisex va con uomo e donne quindi una nuova parola chi va a trans lo chiamerei trisex a proposito di avere trans alcuni dicono che la vera trans è quella che va fino in fondo compreso lo step di rimuovere gli organi genitali maschili allora no la vera trans innanzitutto è quando hai il seno quando sei donna femminile sempre quando come i travestiti che sei senza seno ti vesti solo la sera per andare in discoteca ti vesti da donna quelli sono travestiti punto e basta la vera trans deve avere il seno deve essere femminile interventi chirurgici deve fare il suo percorso di ormoni di femminilizzazione poi anche se non si tolgono non si toglie l'apparato genitale rimane il cazzo in poche parole è sempre comunque una trans completa quindi non è detto che per diventare trans completi devi tagliare il cazzo è detto che è scherzamenta si può essere trans benissimo anche con quel qualcosa in più e sono scelte di vita c'è chi lo vuole togliere perché giustamente non lo usa e quindi gli serve solo per fare pipì quindi quel coso lì lo vedono come una cosa inutile c'è invece chi lo usa quindi perché togliersi un piacere e poter godere in due maniere che godi da attiva e passiva quindi perché togliersi un piacere per chi lo usa ok tornando a parlare di te tu mi hai detto che comunque sin da piccola sapevi che vuoi essere donna la donna biologicamente comunque ha la vagina tu non hai mai avuto comunque il desiderio di allora sinceramente no io sono una trans non operata lo dico sempre senza problemi nelle interviste a chi mi chiede io glielo dico subito così sanno cosa trovano io già mi sento completa così non è perché mi taglio l'uccello e mi faccio un buco perché poi alla fine è un buco posso dire che sono donna la donna biologica è una cosa diversa rimaniamo sempre delle trans comunque anche con l'operazione completa io la penso così giustamente se parli con un'operata no quelle operate dicono no io sono donna sì va bene tutte siamo donne a modo nostro però la donna biologica è un'altra cosa per me mi sembra anche di capire che chi fa l'operazione in realtà non ha qualcosa che somiglia davvero a una vagina è vero? allora i tempi d'oggi l'intervento lo fanno molto ma molto bene perfetta come una figa vera con le labbra dentro le labbra fuori ricostruiscono il clitoride ai tempi d'oggi non ti accorgeresti neanche tu se ti apre le gambe gliela lecchi non ti accorgeresti neanche sì perché ai tempi d'oggi è molto molto simile magari sai vent'anni fa le prime quelle che l'hanno fatto vent'anni fa era sì un buco sembrava un culo dell'asino sinceramente io l'ho vista quindi era un buco lì un po' strano aveva la forma di tutto ma tranne che di una vagina ma ai tempi d'oggi la ricostruiscono veramente perfettamente quindi se già una trans che si opera è molto femminile ha usato molta chirurgia aveva già una base molto femminile dopo che si opera davvero si fa anche molta fatica a riconoscere sono poche però purtroppo le trans siamo tante io sono alta 1,82 quindi questa è la cosa che un po' mi sgama ma a me sinceramente non interessa che mi sgamano io voglio voglio che sanno che stanno parlando con una trans glielo dico io quando vedo qualcuno che nel locale ci prova io glielo dico se non l'hai capito sono una trans perché non voglio stare lì a perdere tempo e non voglio neanche prendere in giro le persone e dopo che gli dico così mi dicono va bene non c'è problema quindi ai tempi d'oggi diciamo non si scandalizza più nessuno anzi lo vedono come un gioco in più una trasgressione dopo ritornano dalle loro mogli dai loro figli dalle loro fidanzate però questa la vedono una trasgressione come una trans da provare almeno una volta nella vita anche il più etero del locale quando vado nei locali giustamente quando non lavoro che vado come semplice cliente in discoteca io scelgo il ragazzo più bello della discoteca e se voglio me lo porto a letto senza problemi anche se lui sa che cosa sono anche se non l'ha mai fatto perché vede la figura femminile vede gli atteggiamenti femminili e dicono vabbè dai provo magari bevo una due birre in più e provo amen tanto non lo saprà nessuno quindi oramai i tempi d'oggi i ragazzi giovanissimi soprattutto attenzione sono più propensi a provare e il mondo funziona così non siamo più nel medioevo quindi il mondo trans fa gola a molti uomini che giustamente non lo dicono se tu parli con una donna ti dice certo con i trans ci vanno i gay non è così non è così con le trans ci vanno i loro mariti i loro fidanzati tutti i padri di famiglia che hanno voglia di trasgredire e fare un diversivo che sono stanchi della solita routine addirittura nei locali io a tanti gli faccio il servizio da psicologo gli faccio guarda che mi chiedono eh ma la mia moglie non mi dà il secondo canale come devo fare non me lo succhia come devo fare mi dai qualche consiglio oh signora quindi devi stare lì anche a dargli conferme io gli dico te lo ho la donna se non ti dai il culo è inutile che ci provi non te lo darà mai perché ha un altro buco a portata di mano quindi usa l'altro quindi a volte do queste pillole di saggezza questi clienti ovviamente porto sempre l'acqua al mio mulino eh scusa a questo è poco ma sicuro però tanti uomini ai tempi d'oggi vanno con le trans non lo dicono magari sono con gli amici lì vedono passare una trans e dicono guarda lì che schifo ma dopo quando sono da soli quella a cui hanno detto schifo gli dicono vuoi un passaggio con la scusa del passaggio invece per portarla a letto qual è il tuo ricordo più bello? allora boh una domanda che non ho mai ricevuto quindi sono un po' in difficoltà il mio ricordo più bello ne ho così tanti io che che per me sono tutti belli i miei ricordi la vita normale con gli amici andare a mangiare una pizza andare in vacanza con gli amici fare quello che le persone normalmente fanno questo è il mio sogno ad esempio io con gli amici in estate andiamo a Gardaland mi faccio tutte le giostre come una bambina mi torno una bambina quindi per me questi sono i miei ricordi più belli la normalità perché tanti pensano che noi trans o persone che lavoriamo nel mondo della notte stiamo chiuse a casa non usciamo denigrate i tempi d'oggi non è più così ho già avuto molti sfottoio da bambina quindi basta ormai è finito questa epoca qui poi qui al nord è differente la situazione quindi ricordi belli ne ho tantissimi la normalità anche andare a Gardaland con il mio gruppo di amici e gridare sul raptor sul blu tornado le montagne russe gridare come una bambina questi sono i miei ricordi più belli qual è stato invece il tuo momento più basso il tuo ricordo che vorresti cancellare? allora il ricordo da cancellare la mia infanzia la mia infanzia non la posso rinnegare non la rinnego purtroppo perché c'è stata però non ci voglio pensare perché è stata veramente brutta ma non per me per carità per gli altri mi sentivo troppo il dito puntato addosso femminuccia voce da femminuccia perché avevo questa voce molto delicata già da maschietto da bambino quindi tutta un inferno è stata la mia infanzia come ho detto prima io la volevo fare finita mi volevo uccidere per fortuna che non l'ho fatto per fortuna che mi sono rimboccata le maniche ho reagito che cosa ti ha fatto cambiare idea? più quando incominciavo a crescere sempre di più quando poi andai a Bergamo quando i miei mi buttarono fuori casa lì ho capito il mio sogno si può avverare quindi lì non ho più pensato di uscidermi perché mi prendevano in giro perché sto dicendo il mio sogno si sta avverando mi ripetevo nella mia mente posso arrivare al mio sogno e adesso ci sono arrivata quindi a tutti i ragazzi che sono bullizzati io dico di non mollare ma soprattutto non gettate la spugna perché ricordatevi che ognuno di noi ha il suo carattere più o meno dolce e se siamo dolci non vuol dire che siamo degli sfigati ma siamo persone più sensibili no sfigati tutte le persone dolci le persone buone le persone solitarie le persone tranquille siamo state bullizzate io nel mio caso perché volevo diventare donna ma tanti altri perché erano ragazzi buoni semplici fondamentalmente buoni vengono sempre presi di mira e adesso nelle scuole è ancora peggio per i bambini di oggi i ragazzi di oggi è ancora peggio perché ti rendono la vita veramente impossibile come l'hanno resa a me solo che io ho reagito per fortuna ho sempre avuto un carattere abbastanza forte con l'età ho capito che dovevo reagire ad oggi sei in buoni rapporti con tutte le persone attorno a te allora sì ho ricollegato anche con i miei genitori giustamente adesso mamma e papà dicono noi eravamo tre figli maschi mamma e papà adesso dicono il signore non ci ha dato la figlia femmina subito ma ce l'ha data con il tempo quindi ormai ho ricollegato anche con loro ogni tanto vado in Sicilia li vado a trovare li abbraccio e lì in quel momento io gli chiedi soprattutto a papà perché la mamma mi piangeva al telefono quando mi buttarono fuori di casa che aveva paura gli dissi ma papà papà ci è voluto un po' più tempo sai un uomo siciliano mentalità con i paraocchi io ho detto papà ma perché a 17 anni mi hai buttata fuori casa mi hai rinegata come figlio hai detto io non voglio più avere un figlio così io dimentico di avere un terzo figlio diceva perché ora con il tempo lui mi ha detto senti bene perché avevo paura che facevi una vita da solo che nessuno ti sarebbe stato accanto ti avrebbero preso in giro per tutta la vita come nelle televisioni come quei travestiti brutti o sceni o orrendi che tutti gli ridono dietro quindi la sua paura era che io rimanevo sola invece non è così gli faccio vedere tutti ogni volta quando vinsi il concorso di Miss Trans Italia io dissi subito quando mi intervistarono quando vinsi che ero siciliana l'eltra filetto la notizia è uscita su tutti i quotidiani italiani anche giù in Sicilia mio padre comprò il giornale principale della Sicilia tanto in piazza questa è mia figlia questa è mia figlia fiero e contento quindi questi adesso per me sono la svolta che mi fa andare avanti adesso non mi manca niente ho tanti amici che mi vogliono bene sia nel mondo del cosplay nel mondo di tutti i giorni faccio una vita normalissima vado a cena sono una persona normale al di fuori dell'essere trans fra virgolette quali sono i tuoi pensieri per il futuro? allora non penso no io come viene viene non faccio progetti quello che la vita mi dà io valuto e prendo e faccio come come questo nuovo lavoro da cosplayer come questo nuovo lavoro che mi hanno proposto in questo cortometraggio che è già stato girato quindi a breve lo pubblicherò quindi mi piace cimentarmi in nuove cose quindi il mio futuro lo vedo che non mi fermo qui sempre con cose nuove a cimentarmi non so quali però arriveranno ecco mai dire mai a proposito di vita cos'è vita? la vita cos'è? innanzitutto stare bene con se stessi vivere la propria vita per te stesso non per la gente non devi vivere tu per la gente tu devi vivere per te facendo quello che vuoi fare tu non devi fare felice le altre persone quindi per me la vita è libertà di pensiero libertà di esprimersi come più ti piace io questa frase la dico sempre nelle mie interviste non permettere mai a nessuno di spezzarti le ali che ti aiuteranno a volare su nel cielo mai nessuno si deve permettere a spezzarti le ali e farti credere magari di raggiungere i tuoi sogni bisogna sempre lottare per raggiungere i propri sogni magari non si ci arriva anche io in tanti sogni non ci sono mai arrivata però sempre quella speranza c'è sempre quindi mai arrendersi e adesso